Ciao a tutti, benvenuti in un altro episodio di MTG Peers by Magies of Lotus. Oggi i capelli fuori posto con pure pezzettini, vabbè, non importa. Allora, oggi parliamo di una piccola Nombo che dovete non fare e ovviamente anche un po' di lore, come al solito. Allora, l'Emissario di Serra è una carta molto molto potente che, quando entra in gioco e non è una trigger, è una statica, quindi l'altro non ci può rispondere, scegliete un tipo di carta e voi e le vostre creature hanno protezione da quel tipo di carta. Spesso si sceglie creatura, così le creature del Loppo non possono farvi male, non possono uccidervi. Però se voi nominate artefatti, perché magari l'altro gioca tanti artefatti e creatura artefatto, attenzione che vi bloccate i vostri equipaggiamenti, perché le creature hanno protezione degli artefatti. Equipaggiare targhetta non può essere targhettata neanche dalle vostre, e quindi anche se sono equipaggiate già sulle creature, questi cadono. Dal punto di vista della lore abbiamo molto da dire, riassumiamo però velocemente. Lei è l'Emissario di Serra, quindi c'è una sua emanazione. Serra era una potentissima planeswalker, quasi al pari di Ursa, possiamo dire, con uno della vecchia guardia, che aveva fondato un piano, appunto il Reame di Serra. Il piano è stato contaminato dal mana pirexiano e lei l'ha abbandonato perché non poteva vederlo in quello stato. Va su Dominaria e poi sul Gotrota, o una roba del genere, un altro piano secondario. Trova Feroz, che diventerà poi suo marito. Feroz però viene ucciso nei vari intrighi contro il barone di Senjir, un vampiro potentissimo, e lei diventa tristissima e va su Dominaria. Su Dominaria poi morirà in battaglia e verrà fondata una chiesa in suo onore. È stato un personaggio un po' tragico, perché comunque il suo piano è stato distrutto, suo marito ucciso, e lei comunque nell'ultima battaglia si è lasciata morire apposta. Anche lei tragica come tutti quanti le sue volte per passati. Alla prossima!